Intro Ben ragazzi sono Petri, bentornati sul mio canale Siamo in periodo di San Valentino e volevo fare uno speciale Perché noi single? Perché noi single dobbiamo passarlo da soli? Ok che questa festività non piace a tutti e molti, anche i fidanzati se ne fregano Però, però c'è un però E ho deciso di fare un video in cui raccoglierò alcune battute, anche un po' squalide, per rimorchiare Ragazzi non so se otterrete quello che cercate o se otterrete uno schiaffo Però dai, a me sono servite, anche se forse lei non lo sa che sta con me Iniziamo con la prima Non sono cinese ma mi mangerai comunque la tua gattina Sì questa era bruttina, abbastanza squalida Rende molto di più in inglese, sì direi di sì Vorrei proprio farti conoscere la potenza del mio organo Sì sì, non mi riferivo a quello lì Esatto Che fascino, che portamento, che eleganza Ok ma basta parlare di me, parliamo un po' di te Sì Forse questo è un po' egocentrico come approccio Meglio evitare Ehi sono donatore di organi, ti serve niente? Forse questo lo schiaffo vi arriva, forse sì Meglio evitarla, decisamente Capito Amo ogni muscolo nel tuo corpo Ma specialmente il mio Ragazzi devo dire che sono tutte sfondo sessuale Per la maggior parte E sì forse questo video qui si dovrebbe chiamare come prendere uno schiaffo o le sei battute da non dire per rimorchiare Sarebbe un titolo più adatto Però ragazzi l'ultima io quando l'ho detta sono rimasto steso Sai la differenza tra una Lamborghini e un cazzo duro? Che non ho la Lamborghini Sì è decisamente brutta Però mi fa morire cazzo Penso di aver fatto questo video solo per farvi conoscere quest'ultima battuta perché è troppo bella E ragazzi un po' di anatomia Ricordatevi che la vagina Detto così è un po' brutta in effetti È divisa in due parti La parte morbida Che è la parte formata dalle grandi labbra E la parte dura Che è farsela dare E con questo vi saluto ragazzi Ci vediamo al prossimo video Sperando che sia un po' più utile Un po' meno stupido Sì forse sarebbe il caso Se il video vi è piaciuto Se vi è piaciuta anche una sola di queste battute ragazzi Io direi di lasciare un bel like Di iscrivervi al canale Per più cazzate Ci vediamo nel prossimo video Bella Non so Io più lo tolgo dall'occhio Più mi ritorna nell'occhio Vedi me lo mangio Non è in bocca Non ce l'ho in mano Perché è sempre sto cazzo di occhio Lions di Yoshi Ah patto schifo È uno sbarbo mi piace Ciao 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 Ciao